Cibo, sistemazione scomoda e, soprattutto, pagamento dei 2,50 euro quotidiani in buoni spese invece che in contanti. Sono state queste le lamentele che hanno spinto 29 richiedenti asilo a protestare davanti alla caserma dei carabinieri di Sant'Angelo di Brollo ieri sera. Il gruppo di immigrati, ospitato in un'ala dell'Operapia, è giunto a Sant'Angelo il 16 agosto scorso, proveniente dai centri di prima accoglienza di Messina. Si tratta di richiedenti asilo che giungono da Ghana, Costa d'Avorio, Camerun, Namibia, Nigeria, ancora privi di documenti ed in attesa, chi ne avrà diritto di andare negli Sprar. Tutta la famiglia, non mangiare, non soldi, non dormire, non bollo. Questi concetti che hanno ribadito ai carabinieri di Sant'Angelo dal capitano della compagnia di Patti, che li hanno incontrati insieme ai responsabili della cooperativa che gestisce il centro. In sostanza, secondo quanto hanno riferito gli immigrati, il cibo non sarebbe soddisfacente, le camere sono per quattro persone e vi stanno due coppie con problemi di privacy, e infine la questione del pocket money, il contributo da 2,50 euro al giorno, che gli viene corrisposto ogni due settimane con buoni spesa da usare nei negozi di Sant'Angelo, anziché in contanti. Alla fine l'accordo è stato trovato soprattutto su questo aspetto, visto che la cooperativa che gestisce la struttura ha precisato che gli immigrati mangiano lo stesso cibo servito agli anziani dell'Operapia e cucinato direttamente nella struttura, del quale nessuno si è mai lamentato prima. Per quanto riguarda i soldi, la cooperativa ha spiegato di pagare in buoni spesa per avere tracciabilità sui versamenti. Gli immigrati, infatti, sono ancora privi di documenti e per questo non possono attivare prepagate o conto corrente sul quale accreditare la somma. La società, comunque, ha deciso di versare metà del pocket money in contanti anticipando i soldi e metà rimarrà in buoni acquisto. Alla fine, quindi, i 29 immigrati hanno deciso di far ritorno nel centro che li accoglie.